Autunno, il momento più bello dell'anno, perché ogni compagnia tecnologica presenta le sue novità e per gli appassionati come noi è inevitabile farci un pensierino. Registro i motovlog e tutto quello che non può essere fatto col cellulare, che è un iPhone 15 Pro, con la mia Hero 12. C'è un annetto, pagata 4,40 mi sembra, su Amazon. Bellissima, io adoro GoPro, ho sempre avuto GoPro, ma ultimamente ho dato almeno tre difetti. Il primo, si impianta. Per quanto possa essere tecnologica, si impianta, non è solo per il calore. Lei molto spesso è posizionata qua, sul mio casco. Non è un problema di riscaldamento. Inevitabilmente si impianta, a certe volte smette di registrare, devi togliere la batteria e miracolosamente riprende a funzionare. E questo qua è un problema, perché se sei in moto mi devo togliere il casco, smontare questo, cercare di capire perché, gli altri ti aspettano e ti insultano. Secondo grande problema, la durata delle batterie. Anche con la nuova Enduro, che ha migliorato la situazione, parliamo di un'oretta, un'oretta e dieci di registrazione. Ed ha il potere di scaricarsi da sola, anche quando è spenta. Vuol dire che in un giro normale bisogna portarsi dietro otto batterie. Io ho anche una dieci e inevitabilmente bisogna sempre cambiare batteria, verificare che sia piena, insomma. Terzo, ultimo problema, la connettività. Sapete tutti meglio di me che la roba interessante con la moto è registrare il proprio audio. Questo qua non può ricevere in autonomia il microfono. Mi serve un adattatore che, in particolare modo, io uso questo. Costano cinquantina di euro. A cui va attaccato un altro adattatore con il microfono, va collegato alla telecamera. Serve uno sportellino apposta, che GoPro non fa e che devi comprare altrove. Tutto ciò non è impermeabile. Neanche il coso aperto non è impermeabile. Sempre col patteama della pioggia. Se piove ti devi fermare. I più furbi mi diranno c'è un media mod adesso. Sì, comodissimo. Più costoso di questo attacco qua. Ma tornando al problema di prima, cambio batterie. Devi aprire tutto, staccarla, fare. Insomma, non molto molto interessante. Per quest'anno mi ero detto, ma sai che c'è, facciamo l'upgrade con l'A13. Ero super carico. E invece il GoPro con l'A13 ben pensa di cambiare le batterie. Vuol dire che mi ritroverei con due telecamere con una batteria diversa rispetto alle altre. E ne ho comprate un sacco di enduro. Vi risparmio la visione del cassetto perché ne ho otto di batterie enduro. E così il terreno era pronto per fare le corna a GoPro dopo 18 anni. E ho scelto questa, DJI Osmo Action 5 Pro. Questo è il pacchetto Adventure che costa 4,70 su Amazon. Fare l'unboxing, ma lasciamolo fare a chi questa telecamera l'ha ricevuta in regalo. A me l'hanno addebitata tutta. Eccola qua. Rispetto alla GoPro Hero 12 siamo lì. Tecnologicamente siamo ugualmente lì. Ok, ho visto YouTube con la differenza. Low light, full light. Alla fine ragazzi, per quello che non devo fare io e l'utente medio, sono perfettamente identiche. Entrambe hanno l'antivibrazione, sono simili come risoluzione. Entrambe 4K, lo slow motion. Ma chi lo fa con queste? Io no, non me ne frega un cazzo che questa sia più... Insomma, molto simili dal punto di vista fotografico e delle funzionalità. Questa ha un grande vantaggio. Che super a GoPro, la sua batteria, consente una registrazione di 240 minuti. Vuol dire che con una batteria, questa camera accesa, fa quasi 4 ore. La 13 no, non farà mai 4 ore. Questa fa 4 ore con una batteria. All'interno della confezione c'è la sua cover protettiva, che a me piace tantissimo. Comoda, vedi, rispetto al Media Mode. Prendi e inserisci. Ti lascia comunque aperto lo sportellino di ricarica. La protegge e le dà un po' questo look rugged, che a me piace moltissimo. Due di questi, che sono gli attacchi magnetici, per attaccarla, vedi? Track, ed è attaccata. Stacchi, track, con la cover. La puoi mettere in verticale, senza sbattimenti, senza dover girarle la GoPro come facevo prima, senza impazzire. Sono in moto, tic, tic, e faccio il contenuto per Instagram. A onore del vero, questa cosa l'ha fatta anche GoPro, con la 13. Bellissimi, bravissimi che ci siete arrivati. Ma è tardi, ragazzi. È tardi. Due vitine di queste, un attacco curvo, il mega bastone allungabile, bella fattura, bello serio. Io non lo userò mai. Poi, ragazzi, la motivazione per cui ho preso l'adventure, questo. Questo bellissimo case contiene altre due batterie. Fate la matematica con me. 2,40, 2,40, 2,40. 720 minuti di registrazione. Ovviamente, cavo USB-C dentro. Cosa che uso più di tutte è il Quick Capture. È una modalità dove tu premi il tasto e la telecamera parte a registrare. Non devi tenerla sempre accesa. La telecamera è spenta, anche se secondo me GoPro consuma un po' di batteria in quei frangetti. Ovviamente, ce l'ha anche questa, ma guardate la velocità. Ve le metto di fianco, eh. Siete pronti? 3, 2, 1. Questa è già partita, eh. Questa parte ora. Dai, questa forse è tre volte più veloce. Non solo. Questa, dopo che premi il tasto di spegnimento, ti dice, sei sicuro? E ti dà modo, eventualmente, di arrestare la procedura di reset. Quindi continuano a registrare. Cosa ci vuole a fare una roba software su questa? Infine, ultimo manomano importante. Quello che vedete qua è un microfono DJI. Lo conoscerete. DJI Mic 2. Sono i microfoni di casa DJI. Onestamente, questi sono compatibili quasi su tutto. Credo si possano connettere anche alla nuova GoPro. Alla 12, no. Non c'è stato verso. Arrivano in questo bellissimo case con ricevitore. Che ora, ovviamente, sto usando. Ecco un altro microfono. Questa, siccome sono della stessa marca, li gestisci in maniera nativa. Vuol dire che posso metterne uno sul casco e dimenticarmi i cavi, i collegamenti. E la qualità è di gran lunga superiore a un microfono col cavo. E ha ore di autonomia. Avendone due, un unico casco mi consente di avere veramente l'autonomia di tutto il giorno. Oppure, se ho modo di portarmi dietro il case e di ricaricarla, mettere il secondo in tasca e registrare, che ne so, lo scarico. O darlo a Mike, mentre sta parlando, in modo che non debba più mettere i sottotitoli, non debba più preoccuparmi di niente. Ma GoPro, ma ci vuole molto a fare una roba del genere. Ma ci vuole molto. Ultima cosa, ma non meno importante. Nessuno ve lo dirà su un video di telecamere. Soprattutto quando queste telecamere vengono inviate da produttore per agensile. Fatemi una domanda. Ma mi serve davvero un action cam? A me sì, perché la metto sul casco. Non ho modo di mettere un cellulare. Questo video, però, è registrato con un iPhone 15, un anno più vecchio. E mi sembra che, nonostante l'illuminazione un po' raffazzonata, la qualità sia molto buona. Ma per registrare e dire qualcosa, basta anche questo. Questo è un A54 aziendale. Perché ricordo che questo canale fattura zero se non vi iscrivete. Proprio un Samsung A54. Tre telecamere, registra in 4K, 30fps. E va benissimo. Quindi se è la vostra idea di fare quello che sto facendo io ora, parlare di fronte alla telecamera per dire qualcosa, un cellulare aziendale da 300 euro va più che bene. Perché è importante ciò che avete da dire, non con che strumento lo registrate. E detto questo, noi ci vediamo ai prossimi video. Ciao ragazzi!